mi trovo a lifa di berlino la prima volta qui è effettivamente tra tutti gli eventi le fiere di tecnologia che ho seguito finora e non sono poche è quella più grande proprio grandi termini di spazi oltre che di partecipazione tante ragazze e ragazzi che vengono qui da tutto il mondo tante le invenzioni le nuove tecnologie presentate quali fa ma qual è quella che ha maggiormente colpito le persone al punto da permettergli di scattare una foto interessante, perché hai questa foto? mi piace la macchina di caffè mi piace il colore, il colore di casa il gaming monitor di Samsung, il colore di un colore, molto brillante e molto grande un tipo di... non so cosa fosse proposte di promuovere ma era un paese stranico si, come una cosa che Lady Gaga potrebbe fare la scuola di lavandolo la scuola di lavandolo la tua biazza di casa, è incredibile senza aver dato 200 euro per mese abbiamo iniziato a scegliere qualche computer e abbiamo abbiamo questi splendido dragonhetti è la Galaxy Watch 5 e le strane con tutte le strane è come una massaggio ma anche serve anche percorzione un modello di potenza questo modello di potenza c'è un modello di potenza E parlando con le persone ti rendi conto che quello che arriva realmente poi non è quello spesso che reggi sui giornali.